Pace e bene, bentornati. Oggi 2 novembre ricordiamo in particolare i defunti della famiglia francescana. Ascoltiamo. La commemorazione dei fedeli defunti è un'occasione privilegiata per unirci spiritualmente ai nostri cari e per celebrare il mistero pasquale di Cristo Signore. Nel credo proclamiamo Dio verrà a giudicare i vivi e i morti ed il suo regno non avrà fine. Tutta la nostra vita è un dispiegarsi della promessa divina che non fallisce e non inganna. Dio nella sua volontà e nel suo amore ha stabilito che Gesù Cristo che ci ha riconciliato quando eravamo ancora deboli e peccatori non perda nulla di quanto Egli gli ha dato ma lo risusciti nell'ultimo giorno. La memoria dei nostri defunti diventa l'occasione per confermare la nostra fede in Cristo morto e risorto, primizia di coloro che risorgeranno come lui stesso ci ha promesso ed anche per rinnovare l'impegno di fare tesoro di ogni insegnamento, di ogni buon esempio che i nostri cari defunti ci hanno lasciato come preziosa eredità. Le preghiere e la celebrazione dell'Eucaristia che oggi vengono elevate in special modo dai cimiteri per il mistero della comunione dei santi possano davvero portare beneficio ai nostri cari defunti ed affrettare se ce ne fosse bisogno il loro ingresso nel paradiso di Dio, là dove saranno asciugate le loro lacrime e non ci sarà più lutto o sofferenza alcuna ma solo gioia e pace vera, piena e definitiva. Eleviamo al Signore per i nostri defunti la preghiera forse più bella, ammettili a godere la luce del tuo volto. Il culto dei defunti è come una piccola spia, un dato importante che ci può dire la salute di una società. Quando si mantengono vive le proprie radici e il proprio contatto con quella che è stata la propria storia possiamo veramente dire che ci sia una spiritualità viva, una spiritualità in corso. Quando invece si perde il contatto con questa dimensione, come anche un po' può succedere i giorni di oggi prendendo le distanze anche dalla morte, allora poniamoci qualche domanda. In particolare i francescani oggi ricordano tutti i loro defunti, questa grande famiglia di figli di Francesco appunto ispirati da questo grande uomo che secoli e secoli fa ha acceso un grande fuoco per tutta la terra, un fuoco che sta scaldando l'umanità ancora oggi. Allora affidiamo all'intercessione di tutti questi nostri fratelli defunti anche la nostra vita e che il Signore doni a loro veramente un riposo eterno. Eterno riposo dono a loro Signore, splenda a loro la luce perpetua e riposino in pace. Amen.